L'obiettivo di oggi, come quello dei prossimi due giovedì, è quello di vedere assieme velocemente la soluzione del laboratorio ed eventualmente risolvere problemi che avete avuto. Non vediamo nulla di nuovo, quindi si tratta di consolidare quello che abbiamo visto finora. In particolare le cose più recenti, quindi l'uso di javascript e l'uso della libreria Plotly. Partiamo dal primo esercizio che riguarda un ripasso di javascript che fa riferimento alla serie di fibromacci che possiamo andare a scrivere in vari modi per andare a calcolare una sequenza di numeri. Quindi, primo esercizio, almeno il primo punto è fare una funzione che sia in grado di restituire la sequenza di fibonacci. Noi abbiamo la nostra funzione fibonacci che vi era già data come struttura e l'obiettivo è quello di andare a scrivere la serie. In realtà la serie di fibonacci può essere calcolata in due modi diversi. In maniera iterativa, quindi con un ciclo, oppure in maniera ricorsiva, quindi con una funzione che richiama se stessa. Vediamo le due versioni così come esercizio di programmazione. Posso dichiarare una funzione fibonacci iterativa che accetta un parametro n. Qual è l'idea di base? Allora, sostanzialmente, se n è minore di 0, non restituiamo nulla. Quindi possiamo restituire un array vuoto, possiamo restituire un messaggio d'errore, possiamo lanciare un'eccezione. Indice non valido per la serie di fibonacci, due punti più n. Se la serie ha un elemento, cioè quindi se l'indice è 0, diamo il primo elemento della serie, che è f di 0. Quindi se n è uguale a 0, ritorna l'array con un unico elemento, che è 1. Se n è uguale a 1, abbiamo sostanzialmente una serie con due elementi, quindi 1 e 1. Altrimenti, semplicemente, si tratta di andare a calcolare tutti gli elementi da quello con indice 2 in avanti, utilizzando i due precedenti. Quindi, lo possiamo scrivere con un ciclo for o con un ciclo while, for i uguale a 2, i minore di, minore uguale di n, più più i, e qui andiamo a dire che la serie che è uguale a 1,1 iniziamo con una serie di base e poi andiamo ad aggiungere gli elementi successivi. facciamo serie punto push serie di i-1 più serie di i-2 e alla fine facciamo un return di serie possiamo scriverla con un ciclo while possiamo usare degli indici invece di un push diciamo che le alternative sono molteplici dubbi su questo? Possiamo scrivere anche una versione della serie di Fibonacci che sia ricorsiva solito parametro n che mi dice l'indice dell'ultimo elemento qui l'inizio sostanzialmente è lo stesso i primi due valori sono fissi quindi non dobbiamo andare a calcolarli a questo punto però se utilizziamo la funzione ricorsiva vuol dire che la funzione richiama se stessa per andare a calcolare sostanzialmente i nuovi valori come fa? beh sostanzialmente se io voglio Fibonacci di n devo andare prima a calcolare Fibonacci di n-1 il quale ovviamente comporterà anche Fibonacci di n-2 che poi mi servirà per andare a fare il calcolo quindi quello che posso fare è fare scusate non la maiuscola var serie uguale a Fibonacci ricorsiva di n-1 il quale richiamerà Fibonacci ricorsiva di n-2 finché arriviamo a uno dei due casi standard normalmente n uguale a 1 per cui sappiamo quali sono i due elementi a questo punto posso restituire serie scusate devo fare in realtà devo aggiungere l'elemento quindi serie punto push serie di n-1 più serie di n-2 return serie esiste un trema fondamentale del calcolo che dice che ogni soluzione ricorsiva può essere espressa in maniera equivalente come una soluzione ogni soluzione iterativa può essere espressa in maniera equivalente come una soluzione ricorsiva quindi in realtà possiamo fare la cosa nei due modi in generale le soluzioni ricorsive spesso sono più facili da scrivere ma sono meno efficienti quindi in generale la preferenza dovrebbe andare verso una soluzione iterativa a questo punto la funzione Fibonacci l'aste potrebbe semplicemente andare a richiamare una delle due ad esempio Fibonacci iterativa di last e semplicemente fare return di questo valore questa funzione che semplicemente restituisce il valore di un'altra funzione in realtà è una chiamata in più non necessaria noi potremmo andare a scrivere in maniera del tutto equivalente Fibonacci 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 iterativa punta e virgola questa seconda scrittura semplicemente cosa fa? ci dice che in realtà il nome Fibonacci è una variabile che punta alla funzione Fibonacci iterativa quindi sostanzialmente quello da un nome alternativo per fare riferimento alla funzione Fibonacci iterativa le due funzioni hanno sostanzialmente lo stesso parametro che viene utilizzato nello stesso modo quindi io posso semplicemente far puntare il nome Fibonacci a una funzione che ho già definito ricordatevi che anche le funzioni sono trattate come fossero delle variabili ok? Spirale come facciamo a fare la spirale? anzi prima di fare la spirale proviamo a vedere se riusciamo a scrivere il risultato da qualche parte allora un test molto semplice è quello di andare qua giù a scrivere console.log Fibonacci 10 allora questo esercizio zero base che sto editando lo includo in una file HTML che richiama quel file javascript che vado a visualizzare me l'ho aperto sull'altro schermo quindi ottengo questo ovviamente non vedo niente perché console.log stampa sulla console quindi quello che devo fare è andare ad aprire sviluppo console e andare a vedere javascript in realtà non mi fa vedere nulla console web l'abbiamo già vista scusate sto facendo un po' l'abbiamo già vista non mi fa vedere i messaggi allora quello che posso fare qua mettere un warning invece di un log eccolo qua ricaricare la pagina allora mi dice che l'esercizio 0 underscore base punto js non c'è avete ragione x allora questo non l'avevo fatto apposta come errore ma in generale questo come altri problemi di scrittura capitano spessissimo me ne siete accorti anche in laboratorio quando succede qualcosa del genere la prima cosa da fare è andare a vedere cosa è successo per cui ad esempio ricaricando la pagina nella console abbiamo in questo caso ok nell'altro caso avevamo un errore e poi abbiamo una stampa con dei valori in questo caso abbiamo not a number vuol dire che il codice che ho scritto da qualche parte ha commesso qualche errore anzi io ho commesso qualche errore nel codice quando vediamo not a number vuol dire che il risultato di una qualche operazione aritmetica non ha avuto un successo atteso cioè non ha dato un numero non vuol dire not a number quindi il risultato non è rappresentabile come un numero vuol dire che i valori che noi abbiamo cercato di combinare con una qualche operazione non erano dei numeri o erano undefined o non erano dei numeri quindi nel caso specifico tornando al nostro codice la serie è un array questo è il secondo indice è 1-2 scusate avete ragione era un indice meno 1 quindi salvando questo e ricaricando la pagina a questo punto vedete che abbiamo 1-1 2-3-5 eccetera quindi i valori sono corretti per avere un output all'interno della console ovviamente basta quello che abbiamo scritto qua sotto quindi console warn oppure info o log l'altra opzione per vedere l'output di quello che avete fatto è di inserire qualche testo all'interno della pagina html ad esempio facendo un document.write del nostro valore fibonacci di 10 questo ci porta a mettere questa sequenza di numeri direttamente nella pagina e quindi lo vediamo senza dover aprire la nostra console è più semplice ricordatevi che per qualunque bad funzionamento la console è una vostra amica quindi utilizzatela attenzione attenzione quando voi utilizzate un document.write perché il document.write funziona se viene invocato durante il caricamento della pagina se andiamo a riprendere il codice html da questo vedete che quel document.write sostanzialmente viene eseguito quando il browser legge questo tag script e quindi carica il file corrispondente cosa succede se voi mettete il document.write dentro il window.onload ottenete sì l'output ma vi siete persi tutto il resto probabilmente l'avete sperimentato in laboratorio quindi document.write va bene per effettuare debug se eseguite il codice durante il caricamento della pagina se avete del codice che viene eseguito dopo il caricamento della pagina come dovrebbe essere praticamente tutto il codice che opera e va ad aggiungere degli elementi sulla pagina html document.write è il male assoluto perché vi cancella qualunque cosa avete prima per cui document.write va bene ogni tanto per il debugging ma è da utilizzare con molta cautela quello che di solito facciamo è di andare a prendere un elemento della pagina html quindi ad esempio il nostro div che abbiamo chiamato fibonacci ma possiamo anche mettere qualunque altra cosa potremmo mettere ad esempio qua un p con output due punti e poi un code il cui id lo chiamiamo output questo vuol dire che se noi andiamo a recuperare riferimento a questo elemento che si chiama output al suo interno possiamo andare a mettere quello che vogliamo quindi var out è uguale document punto element by id e l'id è output se vogliamo inserire del testo dentro un elemento di cui abbiamo riferimento lo possiamo fare in due modi in html che ci permette di scrivere una stringa all'interno di quel elemento oppure possiamo creare un nodo di tipo testo e poi fare un append di quel nodo di tipo testo all'interno della nostra variabile ovviamente il primo è estremamente più semplice del secondo e quindi è quello che normalmente si fa out punto inner html uguale e qui possiamo mettere il risultato della nostra fibonacci di 10 vi faccio notare che qui in realtà il risultato è un array questa operazione cosa fa? prende l'array lo converte in stringa la rappresentazione stringa di un array l'abbiamo vista prima è la sequenza di numeri separati da vircole quindi la rappresentazione standard di un array in stringa quindi tornando al nostro codice vedete qui c'è output e abbiamo poi la sequenza dei valori corrispondenti alla sequenza di fibonacci dentro un tag di tipo code e quindi di formata con un tipo di carattere a spaziatura fissa quindi prima raccomandazione pratica se c'è qualcosa che non funziona utilizzate la console o comunque gli strumenti che vi permettono di analizzare il codice legato all'inera html vi ricordo che quello che voi andate a scrivere viene interpretato come codice html per cui se il vostro codice contiene dei minori o dei maggiori quelli vengono interpretati come inizio e fine di un tag per cui attenzione li potete mettere ad esempio per andare a evidenziare qualche cosa mettere dei grassetti o utilizzare altri tag ma attenzione a non metterli inabbertitamente perché a quel punto il risultato è qualcosa che non corrisponde a quello che voi pensate di aver scritto dentro quel codice costruzione costruzione della spirale non vi sto a scrivere il codice vado a recuperare quello che è già scritto nella soluzione una possibilità è questa quella di avere una serie di valori che vi permettono di andare a moltiplicare i numeri della serie di Fibonacci per ottenere le rispettive coordinate x e y quindi vedete che in questo caso 1, 0 0, meno 1 meno 1, 0 e 0, 1 quindi se moltiplico lo stesso valore della serie Fibonacci per questi due numeri ottengo le coordinate x e y cosa voglio fare? io voglio ottenere sostanzialmente un oggetto che contenga due proprietà x e y quindi quello che posso fare è fare un return di aperta graffa x due punti x e y due punti y questa è la versione compatta in realtà io un oggetto lo posso anche costruire un passo per volta quindi invece di scrivere questo potrei scrivere var risultato uguale new object versione completa oppure in maniera del tutto equivalente var risultato uguale aperta chiusa graffa e poi andare a dire risultato punto risultato punto x uguale a x risultato punto y uguale y e poi fare un return di risultato questo codice qui sopra e questo qui sotto sono esattamente la stessa cosa ok vi danno lo stesso risultato quello sotto è più compatto e vi permette di vedere immediatamente la struttura l'altro è utile se voi volete costruire man mano il codice io qui ho utilizzato x e y avrei potuto utilizzare Kevin e Stuart o qualunque altro nome mi venga in mente altra possibilità avrei potuto dire var s uguale a aperta tonda x due punti quadre virgola y due punti quadre e qua invece di fare x punto push avrei potuto fare s punto x punto push e s punto y punto push e qui semplicemente fare un return di s la cosa fondamentale è che x e y che siano proprietà dell'oggetto s che siano variabili definite all'interno della classe siano inizializzate come degli array vuoti altrimenti l'operazione di push non la posso fare e quindi quello aperto chiuso quadre semplicemente sta a indicarmi che voglio un array di dimensione nulla senza elementi dopodiché posso fare operazioni di push aggiungendo nuovi elementi le alternative come vedete sono varie poi una è più comoda o meno dell'altra non particolarmente vi faccio notare in quest'ultima scrittura che scrivere x due punti x può sembrare strano in realtà all'interno di un oggetto tutto quello che viene prima del due punti viene considerato come nome nome della proprietà quello che viene dopo i due punti è il valore quindi x io l'ho scritto così ma avrei anche potuto scriverlo tra apici ok ho una proprietà che si chiama x la stringa x il valore di quella proprietà è quanto è contenuto nella variabile x che è stata calcolata come abbiamo visto prima vi faccio notare cosa che non si usa molto spesso è che mettendo il nome di una proprietà come una stringa io qui dentro posso anche scrivere qualcosa del tipo asse x di solito non si fa si usano dei nomi semplici ma questo è assolutamente valido serie di fibonacci vabbè qui ci sono un po' di calcoli per andare a trovare le dimensioni massime e minime ma sorvoliamo cosa faccio qui allora qui chiamo la funzione spirale che abbiamo visto prima che mi restituisce sostanzialmente un oggetto che ha due proprietà x e y se vi ricordate come posso andare a definire una serie di dati all'interno di plotly una serie sostanzialmente ha due proprietà che si chiamano x e y quindi quel valore lì è già pronto io faccio sf.line uguale queste informazioni questi dettagli e semplicemente do delle informazioni in più a quella serie che è già stata definita qui sotto vado a definire la dimensione vado a definire il range dell'asse x e dell'asse y vado a definire un margine vado a definire un over mode e poi faccio plotly new plot qui metto l'id dell'elemente in cui voglio mettere il grafico le tracce e il layout si è un modo complicato per andare a capire quali sono gli indici che ti danno il valore minimo e massimo di x e di y volendo non cambia nulla cioè se io tolgo questo mi fa vedere i dati allora se io tolgo questo e questo e vado poi a vedere il mio index ora ve l'ha fatto un po' grande ma ecco ci sta tutto ok quindi in realtà era per vederlo centrato per avere questo frammento di asse uguale all'altro ok ma è un dettaglio in più quindi non era richiesto assolutamente l'esercizio plotly automaticamente vi calcola gli estremi range in modo che siano contenuti tutti i punti quindi in realtà io ho utilizzato quel elemento restituito dall'oggetto dalla funzione spirale come serie vi faccio notare una cosa il primo parametro normalmente è una stringa ma potrebbe essere un elemento che ho ottenuto con getElementById non lo faccio perché sostanzialmente se passo una stringa getElementById lo fa automaticamente il new plot quindi mi risparmio del codice il secondo parametro deve per forza essere un array vedete cosa ho scritto qua su traces quindi le tracce che io voglio andare a disegnare è uguale a un array che contiene soltanto il valore restituito dalla spirale un modo alternativo di scrivere quello era mettere qua direttamente quadra sf questo vuol dire crea un array che contiene quest'unico elemento dimenticare di mettere queste quadre passando qua un oggetto è direi il primo errore che si commette ok quindi ricordatevi che questo deve essere un array se non passate un array non vedete nulla la domanda professore ho scritto il codice sembra corretto ma non si vede nulla io l'accetto molto volentieri durante i laboratori durante l'esame la ignoro se vi aspettate di vedere qualcosa e non lo vedete potete stare lì a fissare lo schermo per un'ora e mezza o di più ma tanto non si risolve potete rileggere il codice questo non fa male ma la cosa che vi suggerisco di fare subito è quella di andare ad aprire i tool di sviluppo la console e il resto in cui vi ritrovate di solito dei messaggi d'errore il messaggio d'errore in questo caso mi dice type error e punto info layer is undefined e in particolare vi dice che questo errore si trova alla riga 30 dentro plotly latest min.js che è il file javascript che contiene plotly se voi avete un errore dentro la funzione che chiamate i casi sono due la funzione è baccata avete passato dei parametri che quella funzione non è in grado di accettare io non escludo che plotly abbia qualche parte dei bacchi però la prima alternativa è molto più probabile normalmente errore di questo tipo vuol dire che avete passato i parametri sbagliati i parametri sbagliati come vi dicevo prima è il fatto che non avete passato le tracce come un array ma come un oggetto pure semplice avvisati ok un altro errore che troviamo qua che però non è la causa del fatto che manchi l'output è quello che vediamo qui in cui mi dice che ho del codice non raggiungibile da qualche parte nell'esercizio 0.js e in effetti quello che posso andare a fare è fare un click e no questa qua è la spiegazione di un receable code non lì ma qui e andare a vedere dov'è il codice il codice non raggiungibile adesso è piccolo probabilmente non vedete giù in fondo si trova dopo questo return s ve lo faccio vedere dall'altra parte che si legge meglio mi dice che il codice raggiungibile è qua questo qui e in effetti si trova dopo un return quindi nella lettura del codice l'interprete javascript ha visto io ho un return ma ho altro codice successivo va bene fa un return di s in realtà avevano scritto il codice in maniera opportuna quindi s restituisce la spirale correttamente però ci segnala il problema che probabilmente abbiamo scritto il codice che non verrà mai eseguito perché c'è un return prima quindi questo è potenzialmente un errore ora in questo caso io vi ho messo una serie di possibili alternative quindi non avendo cancellato il codice precedente l'errore è quello quindi quello che possiamo fare per pulizia è di andare a mettere qua dei commenti a questo punto questo è un codice raggiungibile in webstorm se vedete questa riga è ha uno sfondo giallo in effetti quando ci andiamo sopra ci viene segnalato lo stesso problema unreachable code nel margine nel margine qua abbiamo unreachable code queste lineette gialle che vedete nel margine corrispondono a warning che sono definiti all'interno del codice allora un warning mi dice che in realtà c'è qualcosa che probabilmente non quadra non necessariamente un errore ma probabilmente qualcosa a cui prestare attenzione quindi il mio consiglio è quando vedete queste righe gialle qui mi dice unused function fibonacci r perché qui ho le due versioni fibonacci iterativo e ricorsivo ne ho usata una sola mi dice c'è la funzione fibonacci r che tu hai scritto ma non hai utilizzato hai sbagliato qualcosa perché in realtà volevi utilizzarla oppure volendola puoi cancellare qui mi dice che unreachable code quindi ho scritto del codice e quel codice non verrà mai eseguito o l'ho messo lì e effettivamente l'ho dimenticato oppure ho commesso qualche errore prima e quel codice in realtà dovrebbe essere eseguito ho un altro warning qua unused local variable traces vi ricordate che io ho sostituito traces con quadra sf per cui quella variabile traces che ho definito in realtà non è utilizzata in generale quando abbiamo delle variabili non utilizzate è buona norma cancellarle perché vanno a mettere confusione nel codice quindi altra raccomandazione visto che Webstone fa un'analisi dettagliata del costo codice sfruttate questo fatto per andare a identificare possibili problemi e eventualmente rimuovere parti inutili del vostro codice quindi invece di mettere sf qua metto traces salvo e a questo punto il warning è scomparso a volte è possibile che vi diano degli errori del tipo unresolved function of method new plot quello che potete fare è andare a scaricare la libreria di plotly e aggiungerla tra quelle in riferimento ok però non è necessario come faccio a cambiare il numero di punti e a questo punto dovrei riuscire a vedere diminuendo diminuendo o aumentando il codice è abbastanza semplice ho l'elemento punti che ho ottenuto con document .getElementById WebStorm assume che voi parliate inglese molto spesso e quindi punti non è una parola inglese quindi ve lo segnala come errore ma questo ovviamente lo potete ignorare punti onChange è la proprietà dell'elemento punti che dovrebbe fare riferimento alla funzione chiamata quando il valore di quel di quell'elemento cambia quindi cosa fate? mettete una nuova funzione e dite richiamate sostanzialmente la funzione SpearFib passandogli this.value this.value potrebbe essere una stringa un valore numerico in realtà qui deve essere un valore numerico quindi in generale la raccomandazione se volete essere sicuri che quello sia un valore numerico è quello di mettere un più davanti più davanti a una variabile forza sostanzialmente la conversione di quel valore in numerico funziona anche con meno però meno al difetto che vi cambia il segno magari non è quello che volete a questo punto cosa faccio richiamo la funzione SpearFib che richiama il codice e riesegue il plot attenzione plotly vi da due funzioni sostanzialmente plot e new plot quando vi chiamate new plot quello che fate sostanzialmente è di andare a sostituire il diagramma precedente con uno nuovo plot invece tendenzialmente non fa quest'operazione e di solito aggiunge una nuova serie di dati che non vedete perché è esattamente sovrapposta a quella precedente quindi se voi volete cambiare i parametri e disegnare un nuovo diagramma new plot è la funzione che dovete utilizzare sì no window.onchanger non è detto che intercetti l'evento di solito gli eventi vengono propagati verso l'alto ma se avete tanti elementi che possono cambiare qualunque elemento cambia viene richiamato quel in questo caso probabilmente poteva funzionare non sono sicuro che l'hai provato funziona sì normalmente gli eventi vengono non change ma il click ad esempio vengono propagati iniziano sull'elemento su cui effettivamente avvengono poi vengono propagati gli elementi che li contengono se io ne ho solo uno alla fin fine probabilmente è lo stesso se ne ho tanti inizio a confondere quindi normalmente è preferibile utilizzare l'elemento corretto perché se tu cambiassi un domani questa pagina aggiungendo un altro elemento a quel punto si confondono altro dettaglio io chiamo la funzione SpearFib anche dopo aver impostato questo onchange se io non mettessi questa chiamata qui il risultato sarebbe che appena visualizzo la pagina html vado a prendere l'elemento punti gli dico che se cambia devo disegnare la spirale ma non disegno una spirale all'inizio quindi togliendo questa chiamata iniziale il risultato è che la mia pagina è vuota perché in partenza non ho nessun cambiamento nel momento in cui faccio un cambiamento del valore ecco a questo punto compare perché viene richiamata la funzione di disegno ok questa però più o meno mi sembra di aver visto in laboratorio che bene o male foste riusciti a risolvere da tutti vediamo gli altri due esercizi l'esercizio 1 richiede di andare a caricare dei file json che hanno strutture diverse il primo file json ha una struttura di questo tipo sostanzialmente è un oggetto che contiene due proprietà fields che è un array con i nomi dei campi e data che è un array di array dove gli array interni corrispondono alle righe dei nostri dati il nome del del titolo e la percentuale il secondo il secondo json contiene sostanzialmente gli stessi dati ma è strutturato in maniera diversa quadre e poi quindi un array di oggetti ogni oggetto corrisponde a una riga però quella riga non è più rappresentata come un array con i singoli valori ma è rappresentata come un oggetto in cui abbiamo una proprietà per ogni elemento della riga l'ultimo richiede di andare a caricare un csb allora vi riapro il file che abbiamo a disposizione quindi il primo è fatto in questo modo quindi il campo field con i due le due colonne e poi per ogni riga ho il nome del titolo e la percentuale del portafoglio scusate ma il secondo questo contiene sostanzialmente gli stessi valori solo che ha come vedete un oggetto per ogni riga ed è un array di oggetti tutti gli oggetti sostanzialmente hanno la stessa struttura ovvero hanno una prima proprietà che è il titolo e una seconda proprietà che è la percentuale il terzo è un file json scusate è un file csv in cui ho sostanzialmente la prima riga che contiene le intestazioni delle colonne e poi ho le varie righe dove gli elementi sono separati da virgola come posso risolvere questo ho una serie di operazioni che posso eseguire on load primo dato quindi faccio d3.json l'url e poi la funzione che ha due parametri eventuale errore e i dati cosa succede che quella chiamata di 3.json equivale sostanzialmente a una chiamata iax in cui nel momento in cui i dati vengono ottenuti chiama la funzione che specifichiamo come parametro come secondo parametro dopo l'url error se è andato tutto bene è undefined altrimenti conterrà qualche informazione e quindi possiamo andarla a stampare quindi c'è un if error che è da utilizzare nel caso in cui ci sia qualche problema di lettura dei dati e poi c'è un return return perché se io non sono riuscito a leggere i dati è inutile che vada a disegnare queste informazioni cosa faccio qui utilizzo due array titolo e percentuale e poi sapendo che ogni riga contiene come primo elemento il nome del titolo e come secondo elemento la percentuale cosa faccio faccio row data punto data di qui ho chiamato data il mio parametro ma invece di chiamarlo data potrei chiamarlo ad esempio tit underscore json dati dati json se volete cambiare nome a una variabile utilizzate refactor rename rename perché altrimenti per la legge di marfi avete la certezza che vi dimenticate un punto in cui cambiarlo e di solito quel punto è nascosto ed è il più importante di tutti quindi quindi questo vi garantisce di cambiare quel nome ovunque compare vedete vedete qui abbiamo dati json abbiamo dati json qua quindi riga è uguale a dati json punto data abbiamo visto che è un oggetto con due proprietà il secondo data che è un array i quindi vado a prendere ogni riga e il primo lo metto nell'array titolo e il secondo lo metto dentro l'array percentuale vi faccio notare il più che ho messo qua questo perché normalmente i dati json vengono trattati come string poi chiamo la funzione disegna con titolo percentuale e poi l'id in cui andare a mettere questo grafico disegna è questa funzione che c'è qua sopra che prende scusate i due array i due array titolo e percentuale l'id dell'elemento in cui andare a disegnare fa sostanzialmente esattamente la stessa cosa quindi fa esattamente lo stesso grafico da ovunque provengono i dati vedete qua che i dati o se preferite chiamarli serie è un array quindi ho messo direttamente qua array se non l'avrei voluto mettere qui sotto di un oggetto che ha come valori x le percentuali come valori y il titolo è di tipo barra ed è ha come orientamento orizzontale potevo farlo come barra verticale a quel punto avrei dovuto scambiare y abbiamo un titolo e questo va nel layout abbiamo una dimensione 800x400 abbiamo una dimensione del font che è di 12 punti abbiamo come un tic format formato delle tacche sull'asse percentuale questo interpreta i valori che ovviamente a generalmente saranno tra 0 e 1 come percentuali qui ho aggiunto un auto range reversed in modo che il primo elemento sia in alto il primo elemento che compare nel file sia in alto altrimenti sarebbe quello più vicino all'asse x in basso dettaglio abbiamo un margine sinistro vedete che qua io ho specificato soltanto il margine sinistro gli altri li ho lasciati non specificati quindi li lascio decidere a plotly che mette una spaziatura ragionevole il margine sinistro invece è importante specificarlo più largo del necessario perché sulla sinistra compaiono i nomi dei titoli e quindi deve essere abbastanza ampio per contenerli tutti se non mettessi quello ovviamente non mi ci sta tutta l'etichetta poi faccio plotly id serie e layout il risultato è sostanzialmente questo vedete il margine di 280 mi permette di mettere tutto questo spazio altrimenti sarebbe un margine pari a questo quindi mi taglierebbe la scritta ho i vari titoli le percentuali vedete che sull'asse ho come valore percentuali e basta ok tornando al nostro codice javascript quindi questo è il primo json il secondo json è questo in cui sostanzialmente faccio quasi la stessa cosa l'unica differenza è che ogni riga invece di andare a prendere l'elemento 0 o 1 vado a prendere l'elemento che si chiama titolo oppure percentuale perché nel json automaticamente gli elementi dell'array sono degli oggetti con minone di nuovo qui uso il più se tolgo il più quello che ottengo no in questo caso me l'ha riconosciuto come valore numerico ma il più è di sicurezza e poi ho il file csv il file csv se lo confrontate con quello che c'è sopra è esattamente identico questo perché il metodo plotly di tre csv prende un file csv e genera una struttura dati che è esattamente uguale a quella del secondo json quindi un array di oggetti dove ogni oggetto ha come proprietà i nomi delle colonne come valori e come valori ovviamente gli elementi il valore di quella colonna in quella riga quindi questo blocco di codice qua e quello sopra per il secondo json sono esattamente uguali tranne la chiamata che qui viene fatta di tre punto csv e qui viene fatta di tre punto json per il resto non cambia nulla beh cambia l'id dell'elemento in cui andare a mettere il grafico i tre grafici sono uguali perché i dati erano uguali tra tutti e tre terzo esercizio quello di andare a prendere i dati dalla vendita delle varie marche anche qui tutto si trova dentro il file json il file di javascript tutto sta dentro la funzione che chiamo onload quindi sostanzialmente questa parte qua è standard ce l'avete sempre potete fare window.onload potete fare dollar document.read potete fare dollar aperta tonda function se volete usare jquery ma normalmente qualunque attività di caricamento dati viene fatta a valle della lettura della pagina la struttura è sempre la stessa leggo un csv specifico l'url specifico la funzione da chiamare quindi questo function error e data if error di nuovo mi serve per andare a discriminare il fatto in cui ci sia stato un errore o meno e poi qua sostanzialmente quello che faccio è andare a definire quattro array uno che contiene l'anno e gli altri che contengono i valori di vendita delle tre marche ovviamente io qua parto dall'assunzione di sapere già come è fatto il file csv ok perché altrimenti non avrei potuto inventarmi gli array fiat ford e woswagen non so quali sono i dati ma so che la struttura è quella per cui qui cosa faccio vado a fare un ciclo su tutte le righe del mio file e faccio un push per i valori dell'anno della vendita fiat ford e woswagen e poi vi costruisco questo array con le tracce vedete che in questo caso è un array vero nel senso che ho più di un elemento la prima traccia è questa il nome è fiat la x è l'anno la y è il valore per la colonna fiat type e scatterplot questo il secondo elemento esattamente uguale è analogo solo che il nome è ford i dati sono quelli della ford il terzo di nuovo woswagen e i dati woswagen il layout di nuovo è molto semplice ho un titolo ho una dimensione ho un font il font non è necessario però a occhio potete vedere se i font che utilizzano automaticamente plot sono troppo piccoli o troppo grandi potete ingrandirli restringere a seconda delle vostre esigenze e utilizzare un'asse x questo è un dettaglio sostanzialmente qua sto dicendo che l'asse x deve essere interpretato come un'etichetta quindi come testo e non come valore numerico pur essendo l'asse contenendo degli anni quindi i valori numerici infine plotly auto che è l'id dell'elemento in cui vado a mettere il grafico tracce e layout quindi andando a aprire il file ottengo questo grafico vedete che automaticamente viene generato una leggenda con i nomi delle serie quello che posso fare volendo è andare a spostare questa leggenda in alto in basso in altre posizioni altrimenti viene messa automaticamente lì in alto a destra come la genera utilizzando i nomi delle tre tracce che io ho indicato se non vi piacciono i colori utilizzati da plotly ovviamente potete andare a definire voi il colore della traccia o altri aspetti qui vedete che in realtà quello che avviene è che ci sono delle linee rette se volete potete utilizzare delle spline potete utilizzare delle LH HL quello che volete ok? però la versione base comunque già contiene i vostri dati domande? a quale di questi somiglia l'esame direi a quest'ultimo quello che vi viene dato è un progetto esattamente come questi che avete visto nel laboratorio il progetto contiene già una pagina dentro la pagina normalmente viene riportato un grafico che di solito ha qualche limitazione quindi c'è un'immagine JPEG GIF PNG quello che volete anzi quello che scelgo io comunque vedete l'immagine quindi se aprite la pagina HTML che trovate nel progetto vi trovate un grafico predefinito quello che dovete fare è capire dove sono le limitazioni e avete la solita guida già pronta nel testo e poi andare a pensare a come ridisegnare quel grafico se i dati del grafico sono pochi dovete anche generarvi voi un file dati un CSV o un JSON come preferite se i dati sono tanti e quindi la cosa vi richiederebbe più di 10 minuti normalmente vi do io il file con i dati già pronti quello che dovete fare è oltre a evidenziare quali sono le limitazioni del grafico andare a scrivere il codice javascript che vi permetta di generare una versione riprogettata del grafico che aveva delle limitazioni usando plotly quindi sostanzialmente andare a scrivere l'equivalente di questo codice magari qualche linea di codice in più perché non è così facile però ok l'idea è quella tutto questo quindi l'analisi dell'immagine di partenza il codice per generare il grafico dovete metterlo dentro la pagina html che io vi do quindi ci saranno delle sezioni in cui c'è scritto qui metti l'analisi ad esempio degli aspetti di proporzionalità del grafico gli aspetti di chiarezza quindi poi hai da che scrivere lì dentro e quindi se visualizzate la pagina vedete quello che voi avete scritto quando avete finito prendete e fate il commit del vostro lavoro sostanzialmente cosa faccio io per la correzione apro la vostra pagina html e la guardo quindi dentro ci saranno l'analisi che avete fatto del del grafico di partenza il grafico che voi avete ridisegnato e poi in fondo ci saranno un paio di domande di risposte a domande a scelta multipla quindi l'html deve visualizzare correttamente il grafico altrimenti il voto non sarà probabilmente sufficiente e deve riportare del testo che voi avete scritto come analisi del diagramma del grafico di partenza per esperienza la cosa più complicata è il codice javascript voi partite sostanzialmente da zero e dovete andare a generare qualcosa che sia sensato se non riuscite a visualizzare un grafico per sgangherato che sia ovviamente non superate l'esame se voi fate visualizzate un grafico a questo punto a questo punto io andrò a valutare quanto questo grafico segua i principi di cui abbiamo parlato nella prima parte di questo corso e quanto la vostra analisi del grafico di partenza di nuovo applichi i vari principi di cui abbiamo parlato ragionevolmente i problemi che voi avete identificato nella vostra analisi dovrebbero essere risolti nel grafico che costruite voi quindi ci sono problemi di proporzionalità immagino che il vostro grafico sia dal punto di vista dei proporzioni corretto i prossimi due laboratori saranno sostanzialmente dei temi d'esame quindi come difficoltà analoghe a quelle di un tema d'esame e qui sostanzialmente dovete andare a fare queste operazioni se non avete domande o altre curiosità su quanto abbiamo visto oggi direi che per oggi chiudiamo qua ci vediamo lunedì in laboratorio no sì ci vediamo lunedì in laboratorio grazie